Dal bilancio sociale della fondazione SOS, il telefono azzurro ETS, presentato a Roma, emerge che in bilico tra il mondo reale dove incontrano sempre meno certezze, faticano a stabilire equilibrate relazioni sociali e i tanti mondi del digitale che sono pieni di attrattive e di opportunità, ma anche densi di pericoli che giovani e giovanissimi non hanno ancora gli strumenti per affrontare. I due anni di pandemia e lunghi periodi di lockdown, poi la paura per le guerre in corso, le crisi ambientali ed economiche stanno amplificando tra i minori un disagio che era già presente, spiegano da telefono azzurro. La progressiva riduzione della socializzazione, la diminuzione delle relazioni affettive e di esperienze tipiche del percorso di crescita sono tutti fenomeni in continua crescita negli ultimi anni, così come la crescente pressione per la performance. A questo si aggiunge l'utilizzo sempre più pervasivo di tecnologie digitali, che non comporta solo una trasformazione nel mondo di comunicare, ma ha anche un importante impatto sulla salute mentale di tutti, compresi i giovanissimi. Abbiamo bisogno che di diritti di bambini e adolescenti si parli in maniera corretta, informata, scientifica, dice Ernesto Caffo, presidente e fondatore di Telefono Azzurro. La velocità trasformativa del digitale modifica lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei ragazzi che si trovano a gestire, spesso da soli, forme di difficoltà e disagio, oltre ad essere esposti a molti rischi. Il senso di angoscia dei più giovani influisce sulle loro aspettative future e non possiamo lasciarli soli consentendo che i mondi digitali e i social network colmino le lacune delle reti familiari e le difficoltà delle scuole nello svolgere con le famiglie il ruolo educativo. Per questo Telefono Azzurro si impegna a implementare quella che è una vera e propria piattaforma per il rispetto dei diritti di bambini e adolescenti, con strumenti, innovazione, studio, partecipazione e confronto dei minori per dare risposte certe a un futuro oggi troppo incerto.